da lì sotto bene no lì da lì devi dargli già da indietro da lì forte vai via da lì da lì da lì da lì da lì da lì ok forte e scaricala parti da là dietro in fondo che prendi un po' più di velocità ok 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 qua 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 sopra è forte forte bravo così forte ok 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.